Ben trovati e ben trovate dal vostro Andrea Cartotto, una applicazione web tanto semplice quanto geniale. Avete presente tutte le circostanze in cui ci si rivolge agli alunni e dalle alunne ricordando loro che stanno facendo rumore di abbassare la voce eccetera eccetera eccetera? Bene, non abbiamo un fonometro nelle classi, però dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado può bastare per catturare la loro attenzione, parola mia che l'ho testata più volte, aprire un browser, quindi un programma di navigazione, nel mio caso come sapete Google Chrome o Mozilla Firefox e andiamo mediante la barra degli indirizzi dritti dritti sul sito di riferimento di bouncy balls, bouncyballs.org. Cosa serve perché funzioni questa applicazione web? Semplicemente un microfono che può essere quello interno del computer magari portatile della cattedra collegato al monitor interattivo o alla LIM, può essere il microfono integrato in una webcam, insomma ci vuole un microfono per intercettare l'audio ambientale. Guardate la semplicità, un click su Begin Bouncing e qui apparentemente mi direte ci sono queste palle colorate. Attenzione, sensibilità, questo interruttore che noi andiamo a dosare è l'interruttore di sensibilità di rilevamento del microfono. Poi abbiamo diversi themes, diversi modi di rappresentare graficamente il rumore, vi consiglio di lasciare pure plastic e l'avviso rumore impostato su che è il classico, il classico effetto. So che molti e molte di voi si ritroveranno proprio in questo videocorso. Occhio perché il microfono subito è inattivo, vedete che è barrato alto destra. Io clicco su microphone e... Ehi là, ehi là, ehi là, eccoci, eccoci, eccoci. Come potete vedere cosa sta succedendo? Sta succedendo che abbiamo... Ops, too noisy, troppo rumore. Sta succedendo come vi dicevo, Eh ma insomma, che se alzo troppo la voce, succede appunto un movimento colorato giocoso di queste sfere. Oppure possono diventare numbers, oppure possono diventare bolle. Insomma, scusate, scusate. Una risorsa tanto semplice quanto geniale e pratica per far capire agli alunni, se stanno facendo davvero troppo rumore, ma anche perfetta, ed io la uso così, nei lavori di gruppo, ad esempio, perché possano lavorare con buona autonomia, l'insegnante nel ruolo di facilitatore, senza che questi debba fare da cane da guardia, ma di fatto con un monitor interattivo in classe. E la classe che sta lavorando di fronte a noi, o in un'aula allestita, pardon, con un setting di cooperative learning, ebbene, a quel punto lì, noi ci limitiamo a controllare il lavoro dei ragazzi, e un grande aiuto per la gestione ordinaria, c'è la da proprio Bouncy Bowls. Ci vediamo. Scusate, insomma, ci vediamo con il prossimo videocorso. Vi do sin d'ora appuntamento. Ciao ancora a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto.